Capitolo undicesimo Newman Noggs conduce la signora e la signorina Nickelby nella loro nuova dimora. Le riflessioni della signorina Nickelby che si dirigeva verso casa erano di quella triste natura che gli eventi della mattinata dovevano naturalmente suscitare. I modi dello zio non erano tali da affugare i dubbi e i timori che l'avevano assalita all'uscita né l'occhiata data alla sartoria di madama Mantalini si era dimostrata in qualche modo incoraggiante. Con sinistri presentimenti e con diffidenza ella considerava quindi l'inizio della sua nuova carriera. Se le condizioni della madre avessero potuta ricondurla a più piacevoli pensieri e a più piacevoli disposizioni ve ne erano state in tanta abbondanza che avrebbero raggiunto l'effetto. Fino al momento del ritorno di Caterina a casa la buona signora si era rammentata di due casi autentici di modiste che avevano posseduto notevoli ricchezze benché non avesse potuto esattamente precisare se le avessero guadagnate tutte col lavoro o avessero avuto un capitale all'inizio o anche fossero state fortunate maritandosi vantaggiosamente. Però, come essa logicamente aveva osservato vera stata qualche ragazza dello stesso mestiere che aveva fatta fortuna senza aver avuto nulla con cui cominciare e ammesso questo perché a Caterina non sarebbe potuto accader lo stesso? La signorina Lacrivi che faceva parte del piccolo concistoro s'avventurò a insinuare qualche dubbio relativo alla probabilità che la signorina Nickelby potesse arrivare a questo felice risultato nel corso di una vita ordinaria. Ma la buona signora definì risolutamente la questione dicendo che lei aveva un presentimento al riguardo una specie di seconda vista quella stessa con la quale aveva avuto l'abitudine di discutere ogni argomento col defunto signor Nickelby mettendolo in nove casi e tre quarti su dieci per una falsa strada. Temo che l'occupazione non sia molto buona per la salute disse la signorina Lacrivi ricordo di aver fatto il ritratto a tre giovani sartine quando cominciavo a dipingere che avevano tutte e tre un'aria pallida e malaticcia Oh non sarà per tutte così osservò la signora Nickelby perché io ricordo come fosse ieri di averne avuta una aggiornata me l'avevano particolarmente raccomandata per farmi fare un mantello rosso quando i mantelli rossi erano di moda ed aveva una faccia bianca e rossa bianca e rossa che era una bellezza Forse beveva disse la signorina Lacrivi Non so come fosse rispose la signora Nickelby ma so che era bianca e rossa così la vostra supposizione non ha valore In questo modo e con simili potenti ragioni l'eccellente matrona aveva affrontato ogni piccola obiezione presentatasi contro la decisione della mattina Beata la signora Nickelby bastava soltanto che un progetto fosse nuovo perché Tostole si piantasse in mente brillantemente verniciato e dorato come uno scintillante balocco Definita la questione del lavoro Caterina comunicò il desiderio dello zio intorno alla casa vuota e la signora Nickelby lo accolse con pari prontezza notando caratteristicamente che nelle belle serate sarebbe stato un gran divertimento per lei farsi una lunga passeggiata per andare ad attendere la figliuola e dimenticando non meno caratteristicamente che vi erano anche le sere di pioggia e di cattivo tempo da affrontare in quasi tutte le settimane dell'anno Mi dispiace veramente mi dispiace di lasciarvi mia gentile amica disse Caterina sulla quale avevano fatto una profonda impressione gli affettuosi sensi della povera pittrice di miniature per tutto questo non vorrei abbandonarmi rispose la signorina Lacrivi con quanta leggerezza di tono le riuscì di infondere nelle sue parole ti vedrò spessissimo e verrò a trovarvi per sapere come state e se in tutta Londra e inoltre in tutto il vasto mondo non v'è altro cuore che si interessi del vostro benessere vi sarà una piccola donna solitaria che pregherà per voi notte e giorno così dicendo la poverina che aveva un cuore grande e abbastanza per Gog il genio tutelare di Londra e abbastanza da darne a Magog per giunta dopo aver fatto molte smorfie straordinarie che le avrebbero fatto guadagnare una vasta fortuna se avesse potuto dipingerle sul lavorio o sulla tela si sedette in un angolo ed ebbe ciò che si dice un bello sfogo di lacrime ma né pianti, chiacchiere, speranze o timori poterono trattenere il paventato sabato e neppure Newman Knox il quale puntualmente allora stabilita si avvicinò zoppicando alla porta ed esalò una fragranza cordiale di gin per il buco della chiave nell'attimo stesso che da quegli orologi delle chiese del vicinato che andavano d'accordo scoccavano le cinque Newman aspettò l'ultimo rintocco e poi picchiò da parte del signor Rodolfo Nickelby disse Newman non appena fu di sopra annunciando la sua commissione con la massima brevità possibile saremo subito pronte disse Caterina non abbiamo molto da trasportare ma temo che ci occorra una carrozza la cercherò rispose Newman veramente non vorrei che vi disturbaste disse la signorina Nickelby ma che disturbo disse Newman non posso tollerare che voi pensiate a una cosa simile disse la signora Nickelby non potete proibirmi di pensarci disse Newman perché? perché ci pensavo già venendo qui ma non l'ho pigliata pensando che forse non eravate ancora pronte io penso a molte cose nessuno può proibirmelo ah sì vintendo signor Knox disse la signora Nickelby i nostri pensieri sono liberi si capisce tutti hanno i loro pensieri è naturale se certa gente potesse fare a suo modo neppure i pensieri sarebbero nostri mormorò Newman è vero signor Knox è verissimo soggiunse la signora Nickelby v'è proprio certa gente come sta il vostro padrone? Newman dardeggiò un'occhiata espressiva a Caterina e rispose poggiando molto forte sull'ultime due parole della risposta che il signor Nickelby stava bene e mandava loro i suoi più cari saluti certo noi gli siamo molto riconoscenti osservò la signora Nickelby molto disse Newman lo dico anch'io non era facile scambiare Newman Knox dopo averlo visto una volta e così Caterina attratta dalla bizzarria delle sue maniere sulle quali in quel momento però vera qualcosa di rispettoso e di delicato nonostante le incisività delle frasi lo osservò un po' più minutamente rammentandosi di aver avuto già una visione fuggevole di quella strana figura scusate la mia curiosità e la disse ma non vi vidi nel cortile della diligenza la mattina della partenza di mio fratello per il Yorkshire Newman diede un malinconico sguardo alla signora Nickelby e disse no con la faccia più fresca di questo mondo no esclamò Caterina io l'avrei giurato avreste detto una bugia soggiunse Newman sono tre settimane che non esco ho avuto la gotta Newman era molto molto lontano dall'avere l'aspetto d'un gottoso e Caterina pensò proprio a questo ma la conversazione fu interrotta dalla signora Nickelby che insistè per chiudere la porta per tema che il signor Knox dovesse raffreddarsi e inoltre per mandarla a Fantesca cercare una carrozza ad evitare che gli dovesse esporsi a un altro attacco del suo malanno a tutte e due queste cose Newman fu costretto a cedere la carrozza venne subito e dopo molti tristi addi e un gran correre innanzi e indietro attraverso il marciapiede da parte della signorina Lacrivi durante il qual tempo il turbante giallo si trovò in contatto con vari passanti la carrozza se ne andò di nuovo con le due donne e il loro bagaglio al di dentro ma con Newman nonostante tutte le assicurazioni della signora Nickelby che egli certo si sarebbe beccata una polmonite a cassetta accanto al cocchiere traversarono la parte centrale della città costeggiando il fiume e dopo una lunga e lentissima scarrozzata già che le vie erano affollate in quell'ora da veicoli di ogni specie si fermarono di fronte a un grosso edificio sudicio e vecchio di Thames Street con la porta e le finestre così incrostate di fango che sembrava non fosse stato più abitato da anni Newman aperse la porta di quella casa abbandonata con una chiave che si tolse dal cappello nel quale bene si sappia depositava già che le tasche si erano ridotte in pietose condizioni ogni cosa che gli veniva a mano e avrebbe portato probabilmente anche il denaro se ne avesse posseduto e dopo che la vettura si fu scansata egli precedette le due donne nell'interno della casa vecchia e lugubre e nera essa si presentava con le stanze tristi e buie una volta così sonanti di vita e di attività vera un molo di dietro che si apriva sul Tamigi un canile vuoto alcune ossa d'animali frammenti di cerchi di ferro e doghe di vecchie botti erano sparsi in giro ma non vi appariva alcuna scintilla di vita tutto era uno spettacolo di fredda e silenziosa rovina questa casa deprime e agghiaccia disse Caterina sembra che l'abbia colpita una maledizione se fossi superstiziosa sarei quasi disposta a credere che in queste vecchie mura sia stato commesso qualche delitto e che da quel momento questo luogo non abbia più prosperato tanto è fosco e accigliato santo è Dio cara rispose la signora Nickelby non parlare a codesto modo mi farai morire dalla paura è la mia sciocca fantasia mamma disse Caterina sforzandosi di sorridere bene allora amor mio sarebbe bene che la tua sciocca fantasia te la tenessi per te e non sforzassi la sciocca fantasia mia a tenerle compagnia ribatte la signora Nickelby perché non ci hai pensato prima tu sei così sventata avremmo potuto dire alla signorina la crivi di accompagnarci ho potuto prendere un cane in prestito mille altre cose ma è successo sempre così ed era sempre lo stesso anche col tuo povero papà se non pensavo io a tutto la signora Nickelby cominciava così di solito una lamentela generale snocciolando una dozzina all'incirca di sentenze complicate dirette a nessuno in particolare ma nelle quali si metteva a vogare con tutta la lena finché gli rimaneva fiato Newman che parve non udisse quelle osservazioni condusse le due donne in un paio di stanze del primo piano le quali in un certo modo si era tentato di renderle abitabili nell'una avevano poche sedie una tavola un vecchio tappeto innanzi al caminetto qualche pezzo di stoffa verde stinta e un po' di legna già pronta per essere accesa nell'altra un vecchio letto a baldacchino e pochi miseri oggetti di arredamento bene cara disse la signora Nickelby cercando di rallegrarsene non è questa una delicata attenzione di tuo zio noi non avremmo avuto altro letto per dormire che quello comprato ieri se non ci avesse pensato lui molto gentile veramente rispose Caterina guardando in giro Newman Knox non disse che era stato lui a mettersi nel solaio e nella cantina in caccia dei vecchi mobili che si vedevano lui a portare quel po' di latte per il tè che c'era su una scansia a riempire la teiera ruginosa sul focolare a raccogliere i trucioli e schegge sul molo e a mendicare ovunque i carboni ma l'idea che tutto questo fosse stato fatto in forza delle istruzioni di Rodolfo Nickelby lo sollecitò tanto che non poter frenarsi da far schioccare successivamente tutte le dieci dita la signora Nickelby sulle prime fu un po' sorpresa da quell'esercitazione ma immaginando che in qualche modo fosse in relazione con la gotta non disse nulla credo che non sia necessario di trattenervi più a lungo disse Caterina non ve niente che io possa fare chiese Newman nulla grazie soggiunse la signorina Nickelby forse cara al signor Nox piacerebbe di bere alla nostra salute disse la signora Nickelby frugando nella borsetta per cercare un po' di soldi credo mamma disse Caterina esitando e osservando che Newman volgeva il viso dall'altra parte che l'offenderesti con un atto simile Newman Nox inchinandosi alla signorina più come un gentiluomo che come un miserabile che sembrava si mise la mano al petto e fermandosi per un momento con l'aria di chi si sforza di parlare ma non sa che dire uscì dalla stanza come gli echi stridenti della pesante porta cadendo sullo stipite si ripercossero lugubremente per l'edificio Caterina si sentì tentata di richiamarlo per pregarlo di rimanere un altro poco ma si vergognò dei suoi timori e Newman Nox già trotterellava verso casa grazie a tutti Grazie a tutti.